Ciao a tutti e buona ragazzi, in questo video andremo a vedere la recensione della Insta360 Link 2, una webcam 4K Io quando cerco una recensione di una webcam voglio subito vedere la qualità e magari anche un confronto per capire effettivamente come si comporta Poi andremo a vedere tutte le sue funzioni che sono tante grazie anche all'introduzione dell'intelligenza artificiale Questa webcam in questo momento sta registrando in 1080p ma come Poderac registra in 4K sì Ma abbiamo questa funzione in modalità 1080p che permette di sfruttare un po' l'effetto che si ha con le mirrorless In questo caso è simulato e consiste nello sfocare lo sfondo rendendo il video decisamente professionale Quasi come se fosse registrato proprio con una mirrorless Questa invece è la registrazione video in 4K 30fps ed è la qualità massima che riesce a raggiungere questo dispositivo La mia risoluzione video perfetta e preferita è la versione 2K che sfrutta l'intero sensore della webcam da mezzo pollice Ma in più mi fa sfruttare i 60fps Questa risoluzione è perfetta soprattutto se dovete fare dei gameplay oppure live su piattaforme particolari Vedete mettete la vostra webcam e la qualità in questo caso è assolutamente incredibile L'unica cosa non avete il 16 noni ma per i 16 noni potete sfruttare il 4K 30fps oppure il 1080p 60fps Come di vedere il software andiamo a vedere anche il contenuto della confezione All'interno abbiamo la webcam con il supporto magnetico per attaccarlo direttamente al nostro schermo Comodo il fatto che questo supporto ha anche una possibilità ovvero quella di installare un treppiede Nel caso volessimo sfruttarlo ad esempio in uno studio È una webcam con gimbal volendo c'è la versione 2K che è più economica senza gimbal A livello di funzioni più o meno simili Questo tipo di webcam ha anche all'interno un cavo di tipo C Ma se non doveste avere il tipo C c'è anche la possibilità con l'adattatore di collegarsi a USB A Mi raccomando se scegliete quest'ultima opzione devono essere porte 3.0 In modo da avere abbastanza spazio per trasmettere dati in 4K Questo è il software che è diventato decisamente avanzato Infatti abbiamo più ordine secondo me rispetto a quando hanno lanciato per la prima volta Link 1 E queste sono tutte le impostazioni che possiamo applicare Abbiamo la possibilità di regolare il gimbal verso sinistra, destra, su e giù In base alle nostre preferenze Con la possibilità anche di effettuare uno zoom fino a 4x Vi faccio vedere lo zoom molto 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 preciso Magari sul mio naso E che a livello di qualità ci siamo Come nello scorso modello anche qui abbiamo un modo di impostare delle immagini predefinite Adesso ho impostato 3 inquadrature Inquadratura 1 Inquadratura 2 Inquadratura 3 con zoom Il tutto ha una super velocità Importante il tracciamento Che anche in questo caso avviene con intelligenza artificiale Con anche qualche novità importante Possiamo farci tracciare in qualsiasi momento facendo così con la mano Oppure attivando qui il pulsantino che vedete E lui io appena mi alzo e mi muovo Continua a zoomare Come? Basta che io faccio così E lui zooma Quindi se voglio tenere l'attenzione Anche se mi volto al contrario Lui continua a tracciarmi E anche se vado piuttosto veloce O c'è ad esempio l'ostacolo del computer Possiamo interrompere in qualsiasi momento il tracciamento Facendo lo stesso con la mano Così ho attivato di nuovo Così vado a disattivarlo Oppure togliamo lo zoom Facendo così con la nostra mano La novità è che se ci sono più persone da tracciare Lui è in grado di centrare entrambi all'interno dell'inquadratura E quindi di far sempre vedere anche un gruppo di persone In questo momento sono da solo Quindi vi farò vedere qualche altra immagine Lo devo dire il tracciamento è veramente ottimo Facendo questo gesto invece cosa succede? Va alla ricerca di una lavagna Che in questo caso invece è in due modalità O tramite gli sticker che avete all'interno della confezione Quindi gli dite guarda quella è la lavagna Quella è stop Oppure adesso vi faccio vedere All'interno abbiamo whiteboard intelligente Cosa significa? Se c'è qualcosa che assomiglia a una lavagna Lui zoomerà Per esempio lì ha riconosciuto una specie di lavagna Ma andiamo a impostarla noi manualmente In questa maniera Facciamo su conferma E voilà Vedete? In questa maniera Senza mettere quegli sticker Vi mostro lo stesso una lavagna Un'altra modalità interessante che già avevamo E c'è anche in questo modello Desk view Tu premi questo pulsante E direttamente lei ti punta sui tuoi appunti E li gira Infatti io non devo girare così Perché altrimenti si vede al contrario Sia per te stesso Sia per gli spettatori Invece qui lui direttamente nel software l'ha girato Quindi io posso continuare a scrivere E chi mi sta vedendo Vede quello che sto facendo Vedete? Possiamo impostare una composizione intelligente Durante la fase di tracciamento Ovvero se deve focalizzarsi sulla nostra testa O sul mezzo busto O su tutto il corpo Per farvi l'esempio In questo momento ho impostato la testa Quindi anche se io mi alzo Lui vedete Continua a fare lo zoom Se vado a impostare mezzo busto Mi mostrerà fino a qui Oppure tutto il corpo Non andrà a fare più lo zoom Il bello è che potete anche regolare La velocità di tracciamento Ma io lascerei standard Una mancanza che avevamo nel modello precedente Era l'effetto make up Che finalmente è arrivato Però non è supportato in 4k Dovete andare in 1080p E il 1080p come vedete Abilita l'effetto bokeh Possiamo disabilitare Perché attenzione Ci vuole una scheda video Possiamo attivare vari effetti Anche per nascondere Un po' la munnezza Che abbiamo dietro le nostre spalle Non vi volete truccare E volete essere più fighi Abbiamo anche Vedete l'effetto Qui per andare a Perfezionare La nostra skin care Senza truccarci Ci sono diversi effetti Più femminili che maschili Però diciamo Ci sono Li teniamo Anche alcuni filtri Per andare a aumentare Un pochino La qualità Ma non li andrei a utilizzare Questi Così come non utilizzerei Neppure la gradazione del colore Perché in questa webcam È perfetto In qualsiasi momento Potete disabilitare I gesti Magari gesticolate troppo Vi si attiva il tracking automatico Guardiamo anche Come si comporta Con una illuminazione Che man mano diminuisce Per esempio Adesso tolgo il mio faretto Di sinistra Andiamo a spegnere il led frontale Spento il led In questo momento C'è solo la luce Della camera Dietro le mie spalle Spengo E sfruttiamo solamente La luce Del mio schermo E vedete come Ok si vede assolutamente Del rumore Ma è completamente buio Poca luminosità Ma sul mio volto È riuscito a aumentare La saturazione I colori Quindi sono Ancora nitido Andiamo a riaccendere Così vediamo Come avviene Di nuovo la regolazione Alexa E direi La regolazione Di tutti i colori Contrasti È avvenuto In maniera Praticamente istantanea In questo momento Sto utilizzando il microfono Con Il rumore del traffico Vi voglio Far sentire L'intelligenza artificiale Quando attivo il filtro Che va a togliere Questi rumori Decisamente Riduttivo Quindi Certo La voce cambia un pochino Ma almeno I suoni Rispetto a prima Rimettendo Vedete Molto molto meglio Poi abbiamo anche Annullamento voci Che non annulla Tutti i rumori Ma solo le voci Che ci sono Magari In sottofondo Di là ad esempio Siete fuori Non potete portarvi Il microfono Non volete Avere un brutto audio Durante una riunione Può essere utile Anche questa funzione Altro vantaggio Di questa nuova webcam Rispetto al modello precedente Possiamo andare A inclinare Per avere Un video In verticale Quindi per esempio Se volete fare video Su TikTok Live Potete sfruttare Questa webcam Rispetto al modello precedente Che aveva tre assi Questo ne ha due Quindi dovete Necessariamente Inclinarlo Ma avete il vantaggio Però in questo caso Di avere Il tracciamento Non solo più In linea orizzontale Ma anche In linea Verticale Quindi abbassandosi E alzandosi Rendendosi Molto più utile Un'altra specialità Soprattutto per quanto riguarda Il tracciamento È la possibilità Di bloccare Il movimento In specifiche zone Voi gli fate fare Una mappatura Attorno a se stessa A 360 gradi E potete impostare Delle zone Dove il tracciamento Si deve bloccare Per due principali motivi Il primo Nel caso in cui Non volete Che per sbaglio Magari durante il tracciamento Mostra delle zone Che non vuoi mostrare Il secondo Invece È nel caso in cui Hai ad esempio Una zona Dove ti vuoi concentrare Quindi Non deve Focalizzarsi su di te Ma sulla specifica area Per esempio Io devo presentare Un prodotto Quando Arriva il momento Di presentare il prodotto Smetti di tracciare Ma mantieni Il punto fisso Ecco È questa La funzione Che hanno introdotto Sempre con Intelligenza artificiale E tracciamento Che secondo me Risulta molto molto utile Importante l'aspetto Della privacy Soprattutto in azienda Quando questa webcam Non è operativa C'è il led Che ve lo dice È spento In più Applica una rotazione Verso il basso Per evitare Qualsiasi tipo Di dubbio Sospetto Perché magari Qualcuno dice Poderak Mi entrano nel pc E con la webcam Mi spiano Questo problema Non c'è Perché appunto Lei ha questo Meccanismo Meccanico Dove Non vi possono più vedere Perché Punta verso Il basso Complessivamente È una webcam Che secondo me Vale È assolutamente In linea Con gli altri prodotti Sul mercato Registra in 4k Utile Non solo per I vari professionisti Che devono fare riunioni Ad esempio Con la funzione Lavagna Può essere utile Per i professori Fare delle video lezioni Online Ma anche per I creator Come me Che devono fare Live streaming Devono creare Dei contenuti Per esempio Devi fare Dei contenuti Di cucina Dove ti muovi spesso Oppure sei in uno studio Ti muovi spesso Se avete del personale Fisico da pagare Per farvi seguire Nei vostri movimenti Ecco Lei ha un gimbal Che vi permette Di essere seguiti Con il tracking E potete lavorare In completa autonomia Rispetto alla webcam Precedente Migliorato molto Il tracciamento E anche i contrasti I colori Sono decisamente Migliori Di contro E che è solamente Due assi Cosa significa? Significa che Se dovete fare Dei video verticali Avete bisogno Di un treppiede E ruotarlo Voi manualmente Nella precedente webcam Invece La Insta360 Link Che alla fine Costa praticamente Allo stesso prezzo In offerta Aveva tre assi Quindi quando facevi Video in verticale Non dovevate fare niente Lo svantaggio In quel caso Però E che poteva Seguirvi nel tracciamento Solamente Verso sinistra e destra Non verso l'alto e il basso Quindi direi che La Link 2 Da questo punto di vista È decisamente meglio Fatemi sapere cosa ne pensate Con un bel mi piace E un commento Trovate il link Per acquistarla direttamente Qui sotto In descrizione Magari farò un altro confronto Lo faccio Sì dai E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao